eccoci e bentornati sul mio canale oggi torniamo a parlare del nuovo god of war di cui al momento ancora non si conosce una data di uscita dato che in questi giorni mi avete chiesto informazioni sul nuovo capitolo esclusiva di playstation torniamo a parlarne con tante e nuove informazioni infatti in questi giorni cory berlog per chi non lo conoscesse è il creative director della sony ha rilasciato tantissime informazioni sul nuovo capitolo della serie in una recente intervista infatti tramite tutti i vari post che sta facendo sulla sua pagina ufficiale twitter ha dichiarato che il nuovo titolo di god of war si chiamerà proprio così god of war e basta non ci sono numeri non ci sono sottotitoli non c'è praticamente nient'altro god of war sarà appunto il nuovo capitolo in sviluppo negli studi di santa monica barlog ha anche confermato che al momento non c'è nessuna data di uscita prevista e la release non dovrebbe essere attesa in tempi brevissimi inoltre ha confermato che forse non riusciranno neanche a mostrarlo durante l'evento del playstation experience che ci sarà entro la fine dell'anno oltre alla conferma del nome del titolo ha voluto anche dare alcune indicazioni in merito al gameplay troveremo delle novità come il blocco e la parata che saranno entrambe parti del repertorio di mosse a disposizione di kratos inoltre ha confermato che ci saranno dei momenti incredibili all'interno del gioco e che si manifesteranno in modo diverso dai precedenti capitoli quindi sicuramente ci sarà qualche scena, qualche evento veramente promettente e devastante mi immagino già qualche scontro con qualche dio nordico l'unica cosa che Berlog non ha potuto confermare in quanto tempo serve per portare a termine lo sviluppo del gioco inoltre però ha voluto sottolineare che saranno rilasciati dei making of cioè dei video diario sviluppo che metteranno un po' più di luce sulla creazione del gioco che vi ricordo sarà a quanto pare, quindi sembra essere confermato in tutte le salse essere esclusiva di playstation 4 fatemi sapere che cosa vi aspettate da questo nuovo capitolo di Santa Monica che pian piano comincia a prendere forma e di cui cominciamo a prendere le prime informazioni e noi ci vediamo con tanti nuovi video se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale